La mia famiglia è la mia famiglia. Messi è il miglior giugatore del mondo in questo momento, è considerato il miglior giugatore. Per quanto messi per fare qui, credo che oggi il mondo è fan di Argentina per messi, credo che gaviamo la coppa e ho visto come tutto il mondo sta con camiseta di Argentina, qui sotto ho visto i bambini con camiseta di Argentina che dice messi, quindi questo ovviamente mi rende contento, ci rappresenta in tutto il mondo.